Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E infatti anzi direi pregherei la regista Giulia di dire alla signora Priolo che io oggi non le parlo direttamente perché ieri come le bambine piccole mi ha fatto ingelosire tutto il tempo quindi sciarra Siamo litigate oggi Io devo recuperare la voce Ma posso litigare con una che è vestita così? È un amore, è natalizia, anche io sono rossa e natalizia Mi sono vestita così per te E questi sono i peli di Babbo Natale Buongiorno anche a Giulia in regia, Giulia Celesia e Ryuki e staremo insieme appunto insieme fino alle 13 con diversi ospiti Tanto sono felice che sono di nuovo in presenza Erano due settimane, oggi c'era il rischio che fossi montagne e montagne dai suoceri L'ho detto non posso per tre settimane di fila lasciare la mia seretta Perdo il posto, non lo ritrovo Trovo a posto mio un manichino E quindi siamo qui Oggi Glitter People, ricco di ospiti come sempre Si è giunta in corsa anche un'altra ospite che adesso ti andrò a dire E già con noi, lì lo vedo seduto che chiacchiera col nostro Aldo Naselli Fabio Console Fabio Console, io ho scritto istrionico comunicatore Sara E poi vedrai perché Parlerà di vivere la vita, lifestyle e altre cose Fabio Console è uno dei primi comunicatori importanti di Palermo Nell'era in cui la pubblicità era l'anima dell'Italia Parliamo di anni di Barilla, di Mediaset No, di Mediaset che ancora non si chiamava Mediaset Di Giuppi, sai che tu eri piccolissimo, forse non eri nata E lui con il suo piglio, con il suo volto importante Ha movimentato la città Parliamo di prodotti come Opinion Leader Che ancora arrivano ai giorni d'ostri Come ricordo, anche se non ci sono più Non c'è neanche Franco Nulli più il suo fondatore Ma è stato un bel, bel, bel periodo della città E Fabio era lì a raccontarlo e non ha mai smesso E poi Guglielmo Correnti perché parleremo di Palermo on ice In realtà potremmo parlare di Palermo on the beach Visto che le foto in spiaggia con gli alberi di Natale si sprecano Però è tornata dopo la pandemia Questa bella abitudine che ormai i palermitani hanno da un po' di anni Ce lo faremo dire da quanti anche da Guglielmo Di pattinare sul ghiaccio Cosa che io ho fatto Mi sono andata a impicare Sara, ho detto ma sta cosa Perché io sono una presuntuosa Studiavo pattinaggio, l'ho praticato Che bello E ho detto ma io devo sapere Sicuramente saprò pattinare All'inizio ho detto mi manca il mondo sotto i piedi Poi mi sono messa d'impegno Ho detto a costo che mi fa un po' di libidi Ma devo figurare L'ho fatto con lo sforzo Oggi sarà allora Glitter on ice Glitter on ice La sforza è stata in mano E insieme all'ultimo ospite Che è Francesco Nicolosi Abbiamo anche Sor persona Non te l'avevo scritto Lidia Schillaci che è una cantante Certo Presente al Santa Cecilia Per questo evento Con le musiche Disney Appunto In compagnia anche di Francesco Nicolosi Il violinista Il violinista che è la guest star Di questo concerto natalizio Al Santa Cecilia Insieme appunto a Lidia Schillaci Ci racconteranno Perché poi a Natale Le cose Disney Le cose dei bambini Le cose tenere Vanno sempre forte E a proposito di cose tenere Sara Che cosa gli hai fatto A quel povero pupazzetto Che ti ho regalato Per ora È al calduccio E poi riscaldere a me Ma l'hai acceso No ancora no Ancora no Sara Giulia devi sapere Che gli ho regalato Il regalo dell'anno Sinceramente Secondo me è proprio La svolta di questo 2022 Ha fatto chiacchierare È il peluche scaldino E lei sai cosa faceva ieri Mentre litigavamo Se non le conveniva Quello che dicevo Prendevo una forchetta E lo minacciava Sì infatti Da restare bocca aperta È vero è vero Però lo adoro E iniziamo con Adore Jasmine Thompson Apre la puntata di oggi Già in diretta Sulla nostra pagina Facebook Radio In Vi aspettiamo No 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 E noi chiamiamo Come l'hai chiamata Alla fine Silvia Il nome che mi fa più arrabbiare Da quando sono È che è fatta così Cioè lei è fatta così Se può irritarmi Guarda Le ho detto ieri Domani Ti tempesto di pizzicotti Nel braccio Nella parte Quella tenera Che fa più male Fosse così Fosse questo Mi hai fatto un po' In gelosia L'hai fatta apposta Sì Anche le compagnette Di mio figlio Sante Cristo in croce Proprio perché si avvicina il Natale Io Sant'Apriolo Sant'Apriolo Grazie Sara Priolo è una santa E non è da meno Anche Fabio Console Che però è per i fatti suoi Ma lo facciamo entrare? Fabio Subito Accendiamo Io comunque ho perso davvero la voce Ti rendi conto Sì Ho la voce rauta Ma perché il brusio era tale Qua sembra il Papa Aldo Che benedisce la sua folla Il brusio era altissimo E io mi volevo impegnare Nei miei discorsi abbastanza persi Con due bicchieri di vino Anche più persi La voce si è persa assieme ai discorsi Esatto Ma il vino rosso O bianco anche È mixato Perché l'hai visto soltanto con un calice Mi sembrava lo stesso Amica C'era la Coca Cola a tavola Poi una certa Sara Priolo Ho ordinato il vino Allora ho detto Scusate ma io che cosa sono La scema del villaggio E c'era un bel Un maschione palestrato Non so se hai visto Chi ci ha servito ieri a tavola Aveva muscoli Tutto Tutto bello tatuato È un figo Io ho detto Scusate ma il vino per me c'è Me ne ha portato uno Poi ho detto Guarda è evaporato tutto Questo me lo ricordo Buongiorno Si accomodi Al centro Al centro Ma c'è questa brutta abitudine Che c'è la telecamera Sì C'abbiamo una telecamera Che bisogna stare con la pancia tirata Sempre Tranne quando c'è la pubblicità A quel punto possiamo sbracare Ovvero tra dieci minuti circa Quindi ancora per dieci minuti Dobbiamo stare Fabio Mi chiedo se La definizione Istrionico comunicatore Ti piacque Ma sì Perfetto Io non sono riuscita A trovare video Io sono una gazzaladra E rubo tutto quello Che trovo sui ospiti Però ieri Foto su e sì Wario Non sono riuscita A trovare video Delle tue performance storiche No Vabbè Non ce ne sono Uno solo Me l'hanno girato Infatti è sulla mia pagina Ma come mai Perché una volta c'era un canale Tutto opinion leader Che non ho trovato più Perché Chris l'ha tolto Ma perché Che ne so Era un patrimonio Altrimenti ti scivolano così Era un patrimonio Dell'umanità palermitana Sostanzialmente Perché raccontavo a Sara Che in quei periodi Non c'era ancora Neanche a livello di ovetto Proprio Quello kinder Quello Quello combinato Da madre e padre Ed era per noi Che cosa Opinion leader La nostra Milano La nostra Comunicazione milanese Radio I adore you 11.23 24 Lo so Vabbè Comunque Glitter People In compagnia Di il primo ospite di oggi Fabio Consule Qui in studio Per parlare Intanto per parlare Punto Quando inviti un amico E per chiacchierare No ma poi tra l'altro Sono entusiasta Che mi avete dedicato Questa canzone Ti adoro Tra due bellissime donne E così brillanti È veramente un piacere Anzi ci stava pure Una cosa da bere Fabio Ma noi ieri abbiamo esagerato Perché c'è stata Eh ho sentito La cena aziendale Detto così Pare una cosa Di lavoro Avendo fatto negli anni Tante cene di redazione Che è il termine più tecnico Cioè sinceramente Vi vedo qua oggi Quindi c'è stato Un grosso sforzo Sicuramente Guarda io in realtà La faccia Ho visto gente Provata Di età Di età molto avanzata Camminare a giro La faccia ce l'ho normalmente più magra Qua ci sono otto strati di cerone Sono tutte borse Valigie di lusso Sotto gli occhi Sì Ti voglio bene anch'io Sera Priolo Infatti le mie Dato che ci sono anche Vengono nascoste Ti voglio bene anch'io E poi c'era Il nostro regista Ryuki E adesso il regista Ma Giulia Quanta era figa ieri Bellissima Ma che fa Qua pare che ha 12 anni Ieri arrivavo Ah ecco Infatti io pensavo Sarà una steggista Penso Invece no Ieri arrivò sta bonazza Che avevi stivali alti Truccata Capelli tirati Ma che è questa È una nuova Perché il nostro Aldo Sai che È un Tale scout È un grande tale scout Diciamo che Diciamo che appena Vede belle ragazze Si lavora il personaggio Ma guarda Io devo dire che Ho apprezzato La sua strategia Già di qualche anno fa Perché portare Belle donne Alla radio Ancora Non ce l'ha pensato Neanche la Rai E ancora Non c'era neanche La diretta Facebook Quindi Quest'uomo Secondo me È 20 anni avanti Che cosa è Penso io Stamattina Aldo L'ho appena visto L'ho appena salutato È fresco come un giglio Alla faccia nostra Perché la vecchia scuola La nostra vecchia scuola Nonostante tutto No ma secondo me Aldo Ieri Più di Coca Cola Non ha sfiorato Solo noi ci siamo buttate È il trucco questo Però guarda Aldo Oggi mi ha detto Una cosa così carina Che appena scemmo Poi vado a piangere Se non forse Che ho un pranzo Con sorella E mia amica Mi ha detto Cioè si parlava Di un chirurgo Amico della radio E che si potevano Fare interventi Ho detto Ma scusami Te li fa Con lo sconto Perché a me interessa Farmi le tette Io non ne ho tette Guarda Allora fa Hai altre qualità Quindi mi ha detto Che non ho tette Beh per avere il cervello Sì ma non ho tette Te lo capisci Sì ma questo mi ricorda Questo trend Che ormai si è esaurito Di TikTok Che diceva Lo speech Cioè se non hai tette Poi si voltava Per fare capire Tu niente proprio Cioè Ma con culo Non ce l'ho Ah ce l'hai Bello Perché nella vita Ci vuole insomma Fortuna no? Non di quelli Col cuscino imbiancato Allora la partitorietà Di Milvia Verna Per saperlo voi Perché io La conosco da quando Era poco più Che maggiorenne E oggi ne ho 22 Detto più o più Che maggiorenne Sì ad oggi è questa L'età Praticamente Dovete sapere Che lei E ancora Non era esattamente Accettato dalla città Di Palermo Camminava con la vespa Che credo che tu abbia ancora Sì poverina Poverina che è tipo Vabbè Qua parliamo di archeologia C'era il Jerry Calano Il film Il ragazzo Il poniesco Lanciava Ed era esattamente Quello che fa lei In questo momento Non sta benissimo Non è colpo mia Ma delle scaffe Della città E lei si presentava Tranquillamente Alle riunioni E c'è tra l'altro Anche in un certo livello E facevamo Lei è un passato Da Spindoff Alazzo d'Orlean Lars Berlusconi E gonnellina Allora Pieghe Perché ho continuato Perché ha delle gambe Bellissime Nonostante non sia Non sia altissima Ti ricordi Le gonne a portafogli Ce le avevo tutte io In vespa si aprivano E Marzio Tricoli Ai tempi assessore Al bilancio Nostro caro amico Mio di Fabio Aveva lo scopo Di mettermi la mano Sulla bordo Della colla Bene Sarabriolo Non so che cosa Devi mandare Faccio un gol Allora Ma mi devi passare Il telecomando Perché dobbiamo Accendere l'aria condizionata Ok Quindi prepariamo Anzi prepariamoci Nel frattempo Last Christmas Dammi Siamo su Facebook Ne approfittiamo A salutare Eliana Quando sto qua Aria condizionata Ormai penso a te Io l'avevo visata Io l'avevo visata Ho detto Tranquilla E preparati Perché poi l'accenderà O l'accendi tu No Dico Sono morendo E poi ho considerato Il fatto che ero stata bene Tutta la settimana E poi mi sono reso conto Del fatto che tu Con la nostra voce tirata Aria condizionata Non fossi presente In questo momento Ed era questo il fatto Allora Approfittiamo un poco Del mio amico Per sapere le novità Intanto Ieri ci siamo visti Ad una inaugurazione Di che cosa? Ah allora Ieri Ieri ero con il mio amico Dovete sapere Dovete sapere che loro Allora Non lo possono raccontare Io invece Quando Ma noi siamo qui Per far scendere Alla croce Ma beh ma io poi Appena sono con te Si ricrea l'atmosfera cult E quindi Il gossip 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 Perché noi siamo Nei signori Ah sì scusa Non ricordavo Che eravamo persi Cultiglio Cultiglio è parlare Dei tronisti Parlare di aristocratici Non la devi nominare Lei è l'oggetto Del nostro gossip Ma perché Faglio Pozz Noi che siamo Una lente di ingrandimento Noi che siamo Una lente di ingrandimento Da 40 anni Ma picchi Spunto una Come Giorgia Soleri Ma scusami Da che mondo è mondo Dipende sempre Da O perché sei bravissimo O perché ti sei Fidanzata Di riflesso Molto bene Allora andiamo Alla bici Tette non è A No E se ci sono Non si vedono Alla storia Alla sua storia Ma che è che Meteoropatica Alla sua storia di marketing Cioè quindi È diventata adesso Una Cioè la testimonial Di qualcosa Che è considerato Una neuropatia Inteso come abitudine Non come Cioè non è neanche Censita come neuropatia Cioè proprio Dice non esiste E poi lo chiudiamo Ma la cosa che mi spaventa È che io Per esempio Ho una mia amica La moglie di uno Dei miei più cari amici Che ha Qualcosa di molto simile Ma è invalidante Quindi c'è Ora capisco Perché il nuovo governo Ha deciso E questo Minchino Di portare a 1500 euro Il bonus Per lo psichiatra Ecco Di psichiatra Ne abbiamo bisogno Così come per tanti altri aspetti Esatto Per 30 secondi pubblicità Unico momento in cui Possiamo rilassare la pancia Ecco anche se in realtà Già era un po' smollata Anche il cagliere di pizza Quante ne abbiamo mangiata? Beh io Non ho esagerato Però ho assaggiato tutto Molto buono Brava Io ho ripreso i rapporti Scusate Mi tocca Con il mio amico Antonio Cottone Che ha mangiato una pizza Da bracere Che era Una meraviglia Un bacio ad Antonio Ieri sera sei andato lì? No L'altro io Ieri sera Davito E anche gli amici Che ci seguono All'interno della diretta Ah io non ho condiviso Sara condividiamo Torniamo tra poco Fabio è condiviso Eh Pubblicità La diretta I consigli di Radio In Brava L'immobiliare che mancava Sfizie e delizie Il posto giusto dove fare la spesa Ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia Che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali Da sfizie e delizie Pane fresco a qualsiasi ora E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carni gustose e veloci E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte Sfizie e delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo E vi fornirà se vi occorre un rapido e puntuale servizio a domicilio Anche ordinando online nel sito sfizieedeliziepalermo.com Don Nino non è un semplice bar-ristorante ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi Che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo O con un gelato a tutte le ore Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo di Marco 26B Un luogo senza tempo, un panorama mozzafiato sul mare, i colori intensi della caletta di Sant'Elia Preparati alle emozioni con Escambret Dove la cucina di mare mediterranea, la pizza napoletana e le atmosfere da lounge bar si incontrano Escambret, caletta Sant'Elia, via Torre 6 Preparati alle emozioni Per info e prenotazioni vai su www.escambret.it O chiama il numero 345 44 63 076 Radio In La voce della tua città Facebook per... ah 4 minuti, beh abbastanza Comunque dovremmo rimasti Quattro tutti su Facebook Sì, condividiamo queste grazie oggi Sara, Sara facciamo Hello People, Glitter People Vorrei stare sotto il fiumone, allora il mio è panna e grigio Ma le petta la mail che ti ho mandato una ipotesi grafica di testata glitter L'ho salvata, l'ho salvata Ti è piaciuto quanto... No, nel senso l'ho salvata della cartella glitter, ora poi ci va Ah, va bene Ah, proprio c'è un grasso risultato Glitter banner Sì, no, io lo sai che sono femmina, ho dovuto fare un stregale di Natale Sì Perché lì devo ancora finire? Domanda, 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 saluto Anzi no, affermazione Saluto Charlie McLean, ciao Maurizio Giamblandi, from America Ciao Anche Fabrizio e Roberto, ciao a tutti Io condivido la nostra diretta perché ancora non l'ho fatto Noi, qui Sì, perché possiamo... Anzi, abbassiamo il volume Il tuo era alto No, era il mio Ah, perché hai riaccesso il cellulare Però sei super perdonato Allora, tra le altre cose da raccontare con Fabiuccio C'è una cosa nuova Non so, mi hai coinvolto in cose dove si balla Sì, allora, io in realtà Diciamo Diciamo sottovoce Essendo un giornalista E' un vecchio uomo di radio Sono abituato che quando vado a fare un intervento Ho un argomento Non ti dico un articolo Ma comunque un argomento Allora, visto il periodo Secondo me è interessante Parlare un attimo di quello che è il bon ton di Whatsapp Soprattutto dei gruppi Perché fondamentalmente ormai Siamo diventati Ormai, come dire Ostaggio Di tanti gruppi Addirittura adesso Whatsapp Ti dà la possibilità A chiunque abbia switchato a sinistra Si accorge questa nuova funzione Che ti permette di unire tutto insieme Fino a 12 gruppi Quindi Vero Sì No, questa novità Si chiama Community Non l'ho provata Forse non voglio provarla L'avevo letta però non Community a che serve? Ma per esempio serve alla radio Che c'ha tutti i gruppi Dei vari programmi E così tu Da un unico Da un'unica E quando pubblichi Pubblichi Direttamente su tutti Su tutti i gruppi Soprattutto se hai Alcuni di questi gruppi Che sono broadcast Quindi Ricordiamo che broadcast Significa che Sono soltanto Ah, questa è una bella cosa A due vie Cioè Broadcast Sì Da Una via Nel senso che tu mandi E non è un gruppo È una lista Sì, sì, sì E io le preferisco Utile per eventi E quant'altro Io le liste le preferisco Anche se hanno un handicap Non per chi le riceve Ma per chi le invia Se non hanno il tuo cellulare Memorizzato Non ti ricevono No A meno che Ci sono due tool Sul mercato Uno È una società Che si chiama Penguin Che viene commercializzata Da Da Register.it L'altro è invece Un prodotto molto avanzato Dimmi che mi interessa Di una importantissima Azienda Una software Una delle più importanti Qua in Sicilia Che invece Ha sviluppato Proprio un vero e proprio Tecnicamente Si chiama Bot Per Whatsapp Che ti permette Di inviare Dei messaggi Whatsapp Per essere eletti E riconosciuti Anche se non sei Ma questo ora me lo devi dare Perché mi interessa E poi la nuova funzione In arrivo Per recuperare i messaggi Che sono appagamente Queste due funzioni Vabbè ovvio Però Non è che costano tantissimo Ma sono dirette A un pubblico commerciale Poi attraverso Queste tre lineette Riesci a capire A chi non è risposto Vero? Chi ti manca Tipo 150 persone Allora Questi casi che facciamo Noi Educational Hashtag Entriamo in radio 20 secondi Max Pezzale Nelle 11.37 Parliamo di Whatsapp Con Fabio Consoli Sì abbiamo deviato Completamente l'argomento No Fino queste cose interessanti E lifestyle Interessanti perché Whatsapp Cioè Saperlo usare Anche se tutti Utilizziamo queste app A volte ci sono funzioni Che scopri all'improvviso E ti cambiano la vita Magari anche utili Allora Intanto dobbiamo dire Che Whatsapp Sta arrancando Dietro le performance Di Telegram Davvero? Sì Telegram È in assoluto Il migliore Proprio perché Intanto lo puoi Lo puoi installare Pure sul tuo desktop Sul tuo computer Sul tablet Sul telefonino Anche Whatsapp È da desk Però La qualità Degli audio Creare questo link E tra l'altro Sei vulnerabilissima In questo momento Perché se una persona Entra dentro questa cosa Ed è facile Perché praticamente Come un citofono Cioè Ti sei giocato Alla criptografia E da là Possono entrare In tutto il tuo telefono Vabbè Però per persone Tipo me Che non hanno una vita Puoi andarti a leggere Tutto quello che vuoi Cacchietto E di quanto tempo Hai da perdere Cioè Parliamoci chiaro Comunque c'è una beta version Che Penso Quindi significa Che per ora La stanno provando Di Telegram No no Di Whatsapp No no Telegram funziona stra bene Nel senso che Telegram c'è anche la possibilità Di fare liste di distribuzione Assolutamente C'è liste di distribuzione Gruppi video Fino a Fino a 10.000 Fino a 10.000 Autenti collegati Contemporaneamente Me l'andrò a studiare In queste vacanze Telegram Eccolo qua Ce l'ho Ce l'ho da vita Ti permette di inviare File ad alta definizione Fino a 2 gigabyte Esatto questo è importante Sì 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 Infatti Ma io volevo finire un attimo Il discorso di Whatsapp Bontone Sì il bontone Cioè Allora Prima di tutto Il Non si manda Il buongiorno Ogni Ogni mattina Ogni cosa In quel caso proprio Tu dichiari la tua pazzia E a socialità Non che solitudine Perché cazzo Ce l'avrai qualcuno a casa A cui dare il buongiorno No Sono il primo Nella tua giornata Poi dicono Che io ho un brutto carattere No ma anzi Questa cosa si sta riducendo Almeno tra i miei contatti L'ho noto molto E da me per forza Perché ti blocco Dopo che mi mandi il buongiorno Tra l'altro Cosa importantissima Scatta la denuncia La risposta La prima cosa da fare Appena sei inserito In un gruppo È immediatamente Togliere La suoneria La suoneria Cioè notifiche Mai Vibrazioni Avete notato che prima Whatsapp diceva Per un anno Per un giorno Per una settimana Sempre Forever Ci dovrebbe essere Anche questo copiato Però anche questo copiato Da Telegram No telefonate Solo i mail Grazie Infatti Perfetto Invece perché è stato Copiato da Telegram Credo Perché in questo Io poi ormai Sto invecchiando malissimo Ma credo che sia Da il mai Di Telegram Altra cosa Poi importante Svuotate Le chat Di gruppo Perché soprattutto Quando ci sono Questi tossici Occupano memoria Prima di tutto Brava E soprattutto Si caricano Si caricano Ricordatevi Che ogni Ogni immagine Che voi mandate O che voi ricevete Si va a caricare Sulla galleria E poi voglia Soprattutto poi Se tu devi fare Una ricerca Per giornata È un incubo Io da puliziera Professionista Faccio pulizie Sempre A fine giornata A volte butto me E mi devo andare A recuperare Nel cestino Recupera Ripristina Però altra cosa Molto utile Di Whatsapp È che adesso Si può mandare A se stessi Bellissimo Mentre prima Era un magheggio Anche se amico mio Io avevo un gruppo Con tipo mia figlia Che è la martire Quando io mando cose E poi l'ho eliminata Dal gruppo E l'ho rinominato Appunti per me Sì E questa era La tecnica Che bella questa Bella Bella Put your records on Io l'avevo Come suoneria Del Nokia Che io amavo Tantissimo Il mio Nokia Bianco Smartphone Non riesco a leggerlo Poi Sono passata iPhone Non sono ancora Riuscita A mettere La suoneria Perché devi scaricare Metterla O comprarla O Metterla Insomma Su iTunes E poi da lì Che vita d'inferno Perché questa era La mia colonna sonora Soprattutto Con quel periodo Ancora in politica Quindi il telefonino Suonava Poi non c'era Un whatsapp Tutte queste alternative Quindi l'unica Era subire la telefonata Che per me È una vastasata Ve lo dico proprio E quindi Era la mia colonna sonora Arrivavo io con Put your records on Era strafigo Ce l'hanno Un po' in cuffia Che ovviamente Se è bello Essere riconosciuti Dal proprio profumo Figuro di avere La colonna sonora Vivente Sostanzialmente Allora Accontare di me Una donna di classe Perché io invece Avevo Jump Quello dei manali Jump Sì sì In piena riunione È proprio fantastico Vabbè Adesso ti è arrivato Un messaggio Sembrava che qualcuno Avesse tirato lo sciacquone Sì Sì Anche questa cosa È importante Cioè Avete la possibilità Di cambiare le suonerie Se voi lasciate Quella in default Ammettetelo Che ogni volta Saltate in aria E per poi Vi toccate Ah non ero io Pensavo di essere originale Con vecchio telefono Ma ce l'hanno tutti No Anche perché C'è stato un rallentamento Della produzione Del 14 Quindi Chi l'ha preso L'ha preso Due mesi fa No vecchio telefono Era una suoneria Che fa Drin Drin No perché lei È ipermoderna È influencer Ancora non ha figli Quindi i soldi che ha Se li spende su di sé Anche se adesso Che è andata a vivere A casa con Gilberto Arrivano le bollette Amica mia Poi vedi come balli Comunque È giusto Però io accendo La pastoviglia Attivo La pastoviglia Non si può Giusto per darle Una botta di realtà Sono sicuro Che entro l'anno prossimo Avrei abbastanza Follower Per fartelo regalare Direttamente Da Apple Italia No no Qui bisogna fatturare Diverso Vero Fabio Che brava questa ragazza E quindi lei Va alla caccia Dell'ultimo telefonino Perché lei È Allora ma Guarda che c'è un perché E il Poi Cioè Io ero venuto Per fare Il giornalista Di Corb E invece Sta venendo fuori Il comunicatore Beh del resto Tu l'hai pure Definito Allora L'iPhone Da il Da il 12 in poi È l'unico Che ha avuto Ha una stabilità Anzi una stabilizzazione Della telecamera Interna Quella per farci i selfie Per intenderci Che Continua ad avere Soltanto loro Nessuno ha raggiunto Questo livello Perché si sono chiaramente Evoluti Motivo per cui Qualunque Content creator Che consente È una cosa Un'altra La signora infatti Vuole essere chiamata Content creator Ma io Ragazzi Io La La Priolo È anche una Notevole Notamente conosciuta Digital marketer Anche il fatto che sia Buona da morire Non incide Allora io Dovessi stare a guardare La bellezza è finita Ciao Oggi è Natale Comunque Eh Radi Io rivoglio La mia colonna sonora Era questa L'abbiamo ascoltata Tu che sei tutta avanti Che mi dici Cringe Che mi dici Dissare Mi devi sapere Mettere la colonna sonora Ice Ice Te lo faccio Mi devi sapere Rimettere la colonna sonora Di Corinna Come si chiama lei Corinne Balleray Nel Nel cellulare Eh sì Però con iTunes Quindi colleghiamo Tutto quello che vuoi Tanto ti ho spiegato Sicuro che non ci dissi Non ho segreti Allora attenzione A proposito di iTunes L'ultima L'ultima release Cioè quindi L'ultima versione di cosa È il paradiso Dei karaoke Perché di solito I paradisi del karaoke Sono dei boomer Comunque Praticamente C'è questa funzione Che tu Togli il cantato E quindi Siccome Come è stato Prima Amazon Music Trovi anche Il testo Quindi tu Praticamente Con il tuo iPhone Collegato A una cassa Bluetooth Stai poi Cantare Con la musica originale Sì E le parole Sì Io ho visto C'è chi abbina C'è chi abbina Anche il microfono A gratis Altro che canta tu No c'è chi abbina Anche il microfono Hanno fatto una sorta di box È una pagina appunto Su Instagram Che ti vende In questo caso La cassa Bluetooth Anche il microfono Quindi tu puoi fare il karaoke Direttamente Allora Cassa Bluetooth Allora Se per questo Tu puoi acquistare Anche su Amazon Ma su AliExpress E molto più A mercato Direttamente il microfono A karaoke Con cassa integrata Quindi Tu puoi decidere Di collegarla Via USB-C O via Bluetooth Con la cassa Oppure direttamente Tanto se sei a casa Si salvano anche I vicini Cioè Si sente Dal microfono Lo stesso Adesso c'è questa piccola cassa Io l'ultima scavagnata Di Pasquetta Ho fatto Del 25 aprile Ho fatto un karaoke Sono stonata Come una campana Non è semplice Cantare Ma ci si diverte L'avrei fatto qui Volentieri in studio Però Un panino Con un bicchiere di vino La felicità Ancora musica Spangia Si beve Chi se ne frega E un giorno Mi dirai Te lo dico Ma te lo dico pure subito Che avevo detto No era il titolo Della canzone Si vede che sono Un po' Scoppietto ritardato Ma tu ti devi Conte che sei L'unica boomer Abusiva Non è boomer No no Lei è boomer Io sono boomer Guarda Però no Perché adesso Ho scaricato cap Abbiamo letto La cover libro La cover libro La cover libro È da boomer Ma io mi arrabbio Da morire Ma io mi arrabbio Diggielo Raccontaglielo Io ora monto video Che sembro L'ultima delle influenze Sembra il titolo Di un film È anche una minaccia Però L'ultima delle influenze Sarebbe perfetto Ma probabilmente lo sei Come range Io lo farei Questo film Ci credo Perché lei è un personaggio Cioè lei forse Più che in diretta È improvvisazione Senti ma a me Il film Mi vuoi fare la parte Della buona O della cattiva No quello che vuoi tu La cattiva Lei vuole fare la cattiva Cioè non hai capito Però nulla si può dire Sulla sua professionalità Io vorrei essere buona Ragazzi Io a volte ci provo Io sorrido sempre Quando posso Ad avere la penna Di Milvia Verna Sono gentile Faccio passare Poi però Mi scatta l'embolo E non ce la faccio Non mi riesco Sto facendo un complimento Ti sto facendo un complimento Ti sto dicendo Puoi essere così Colipo Mito Ma Ma infatti Io oggi domani Dovessero chiedere La tua testa Ma falle esprimere Falle esprimere Testimoni In giudizio Io ti chiamo Per parlare bene Di me E tanto tu Ogni tanto Random Qualche caso Ce l'hai sempre Ma chi ci paga No amore In quel caso Pago io In genere Pago io In questi casi Va bene Ci accontentiamo Delle palline Sì va bene Ti faccio una Ma se ti accontenti Delle palline di Natale Già fatto Quindi posso picchiare qualcuno Se tu vieni a parlare bene Non esageriamo E ti ho fatto un complimento Intanto Prenditi qua Poi ci pensiamo Ma c'è pure qualcuno Che fa antipatia a te Amore Lo faccio Per effetto Esatto Ma tu lo sai Giusto per parlare Di cose importanti Che in Giappone Se non sbaglio C'è un mestiere Che è quello Che litiga a posto tuo Come no Ma tu lo capisci Che carriera Avrei fatto io In Giappone Dov'è Ma infatti C'era Su questa cosa Ci ha fatto La fortuna Due cabarettisti Di made in sud Napoletani Che facevano questo Ma è geniale Se per questo In Giappone Così come anche In Spagna C'è L'inseguitore Quello che tu Ti insegue il tuo debitore Vestito tutto di nero Tutti sanno che cosa è E lo cosa Questo è pure geniale Sì infatti I francesi Hanno preso La figura Non in questo modo Infatti Loro hanno L'operazione Diciamo Gli avvocati Sono una cosa Un po' diversa Rispetto a noi E loro hanno A dignità di avvocato Diciamo come Il nostro avvocato Il recupero crediti Chi fa il recupero crediti Si chiama Wisser In seguitore Ma nasce Tutto dalla Spagna Siete grandi Spagnoli Io finora Ogni recupero crediti Che ho fatto Ci ho rimesso Le penne Eppure Vabbè Stavamo parlando Però di cose Divertenti Giusto Sì ma abbiamo 40 secondi E poi La prossima pausa Pubblicitaria Quindi Torneremo con La vita Lifestyle Ah infatti Dovevo parlare Ma se tu ti metti A parlare Chiacchieri Chiacchieri Whatsapp Tecnologia Queste cose Ci piacciono Te la posso raccontare La mia ultima lite Senza fare no In 20 secondi No appena torniamo Io amo le piume Comunque Grazie Ci danno quel tocco chic Ebbè anche perché A quest'ora i glitter No Questa voleva essere Glitter sempre Noi sempre glitter Questa voleva essere sexy Si mette a corpo nudo Shin Io l'ho messa così Shin O no In Shin Io la chiamo Shine 8 secondi 7 6 A tra poco Restate con noi I consigli di Radio In Don Nino Don Nino Non è un semplice Bar-ristorante Ma un'esperienza Da vivere Con tutti e cinque I sensi Che ti fanno scoprire Come si può mangiare Bene e sano Senza rinunciare Mai al gusto Don Nino È pronto per stupirvi Dalla colazione La mattina Alla formula buffet Del pranzo O con un gelato A tutte le ore Don Nino Total Food Vi aspetta a Palermo In via Vincenzo Di Marco 26B I tempi sono quelli che sono Mi sa che dovrò rivolgermi Ad Affari in Oro Suggerirò l'idea anche a quella Befana dell'amica mia Affari in Oro Compra preziosi in oro e argento In contante All'istante Affari in Oro E a Palermo Con otto negozi Numero verde 800 913 333 Bambini Arrivo Guarda che meraviglia Senti che spettacolo E' arrivata Sky Glass Molto più di una tv Perfetta fino all'ultimo pixel Con un miliardo di colori E immagini cristalline Sky Glass 43 pollici A 11,90 euro al mese Anticipo di 25 euro Anziché di 125 euro Solo con abbonamento Sky Vieni a scoprirla Nel nuovo punto Sky A Palermo In viasciuti 68 Domenica aperti Per chi ancora non lo sa La dodicesima nota E' una splendida terrazza Della storia Palace Hotel Dove poter godere Dall'alto di una vista Mozzafiato sulla città Ideale per un coffee break Una colazione d'affari Un cocktail Una cena O un banchetto Scoprirete una cucina D'eccellenza Avvolti da un piacevole Sottofondo musicale La dodicesima nota Per noi di Radio Inn Sarà un punto di riferimento Venite a scoprirla anche voi Alla storia Palace Hotel In via Monte Pellegrino 62 A Palermo Ciao gelato La dolcezza a casa tua Tutte le volte che vorrai Dal 6 al 9 marzo Alla fiera del Mediterraneo Di Palermo Se la ristorazione È il tuo mondo A ExpoCook Non puoi mancare Info su ExpoCook.org Una lievitazione Radio Inn La voce della tua città Facebook Eccoci Fabio Eccoci su Facebook E siamo rientrati Sempre allo people Glitter people Un poco sonnecchiante Perché ieri abbiamo fatto tardi Abbiamo bevuto Abbiamo chiacchierato Abbiamo mangiato bene Abbiamo mangiato Io ho dato il meglio di me E quindi oggi sono un poco Ma con Fabio e con Sara Di chiacchiera non ne manca Esatto Abbiamo parlato di tutto Tranne di quello Che volevamo dire Che poi in realtà Non è solo questo Perché con Fabio Io avrei anche rievocato Di più il passato No non mi va proprio Basta vero? No no È legato a un progetto Ben preciso Magari poi torniamo Ne parliamo Perché il stop Questo mi piace dirlo In anteprima E io ho scritto Insieme a Fabio Gandolfo Che è un cantante Specializzato in musica Anni 80 da sempre Ed è un grande collezionista Quindi noi usciremo Con uno spettacolo Che stiamo cominciando A distribuire Che si chiama Ti sblocco un ricordo Dove Frase di Facebook Di Instagram Sì Molto Facebook Ti sblocco E da buon comunicatore Sì Chiare No tra l'altro Si assolutamente Anche l'altro format Però non lo posso dire Che poi me lo copiano Guarda la gente copia tutto Sappiate che quando mi copiate Non sono contenta Non mi sento onorata Se la vuole sentire Se la senti Da un lato C'è l'ammirazione No me ne sto Comunque volevo finire Di spiegare Se mi arriva una percentuale Dalla fattura A me ha bello cuore Ma ancora mi seguono Perché un concetto Non lo riesco a capire mai Devi sapere Devi sapere Che i cazziatoni Che arrivano a Aldo Per me Le accuse peggiori Non mi ha fatto parlare Ma non è che noi Vi invitiamo per parlare È per non stare sole Per avere cartilaggini In mezzo Alle ossa Per non farci del male Ah ho capito Sì perché io divento Uno scheletro Il venerdì Ecco perché Ma la fregatura È che Io purtroppo Sono abituato A fare questo mestiere Quindi Infatti Tra l'altro Stavo aspettando Che fossimo in diretta Per In diretta radio Sì Per Per spiegare la cosa Perché qua C'è il Questo meraviglioso Ritorno Che ti aiuta È così Allora Prima di arrivare a questo Però stavo dicendo Ti sblocco il ricordo Dove Attraverso degli oggetti E sono il mangianastri Tu non puoi sapere Che cosa Lo diciamo in radio No in radio no Parliamo di No no parliamo No parliamo Certo Qual è il problema Devo finire Il bon ton Tutto facciamo Tanto c'è tempo Ghost Justin Bieber No vabbè Giulia Giulia io già sono Completamente a terra Tu mi metti ghost Mi vuoi mettere una ballata Mi vuoi fare la nina nana Mi metto in braccio a te Tanto sono piccoletta Di certo non siamo fantasmi Non siamo trasparenti Però ghost Ci fa da cavallo Da gancio Per continuare Il nostro Il nostro bon ton Del whatsapp Perché ghost Ghosting Quindi l'attitudine A sparire completamente Io Ti ho cancellato Io sono campionessa Di ghosting Che non è L'arte Del fantasmino Della calza No 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 Simpatica Tra l'altro Io sono 50 denari Lo finiamo un concetto Tu che sei una trendsetter Scusami Cosa ne pensi Di queste calze Finte calze In realtà sono De leggin Ma Queste Queste che a Milvia O in generale Io sono questi 50 denari Ci sono però anche più doppia 80 90 Adesso è uscito Ok 20 è anche molto Si dipende Ma adesso è uscito 20 è molto bella Questo leggin Che sopra Praticamente È a strati C'è il leggin È una truffa Fabio Lo so Una calza rosa E sopra Una 30 denari Ti spiego perché È imbottito È imbottito Sì però Deve avere una gamba Sottile come la tua La modella Deve essere tanta Già sembra pienotta La modella tanta Sembra pienotta Con sta calza No no vabbè Però in compenso È perfetta per Le ultra quarantenni Che stando a dieta La prima cosa che perdono È la tonalità delle gambe Per esempio Vi posso dire Alessia Marcuzzi Ha avuto sempre Le gambe stupende Storte ma bellissime Anche secondo me A un certo punto È dimagrita E adesso Praticamente È uno scheletro Lei La canalis Non hanno più una gamba Hanno gli stecchini E basta Loro Addirittura ci guadagnano Perché diventa quasi una protesi E quante Quante Sì però A quanto pare Sono anche modellanti Ho visto alcuni Leggini Comprensive Per giù Le calze velate Prima non si usavano più C'è stato un periodo Di oblio Ora sono tornate Da un paio d'anni E sono molto sexy Io le evito Sinceramente Perché mi sembra Di essere nuda È molto esposta Nere È molto chic Anche se Soltanto per qualche evento Le metto velate Ma deve essere Bon ton Per non sembrare Troppo appariscente Il discorso che facciamo Dall'inizio Della giornata Che è ostentare Avendo le gambe Come dici tu Un po' in vista Con questa Io mi sento una bambina Di scuola elementare Non mi sento sexy Se ci metti il velato Diventa subito Quanto vuoi Comunque tu dovresti fare Secondo me Dei seri tutorial Sull'accavallamento E le gambe Mi sembra Tra l'altro E anche questo Un trend di tiktok Esatto Sui trend Ma con la Sono che là Lo fanno vedere apposta E lei invece Bravissima Mi sembrava Seri sedute psicologiche Ma com'è partito Però questo Andrebbe molto Un suo video Così Assolutamente Ma poi te lo faccio io Diventerebbe virale Torniamo tra poco Anzi Dopo le notizie del giorno Lì nella redazione Buongiorno E per ritrovati Dalla redazione La presidente del consiglio Giorgia Meloni Secondo quanto si apprende Giunta a Baghdad In Iraq Dove questa mattina È stata accolta Dal premier Al-Sudani Con cui ha avuto Un colloquio Al palazzo del governo Meloni ha incontrato Nella capitale irachena L'ambasciatore italiano Maurizio Greganti Alla base militare Union Tree Sede Dei comandi Della missione NATO E della coalizione Anti-Daesh Il comandante Della missione Il generale Di corpo d'armata Giovanni Maria Iannucci Una rappresentanza Dei militari italiani Presenti E il personale Del contingente Militare iraniano In Iraq La guerra in Ucraina Giunge al 303 Simo giorno E secondo Il Wall Street Journal L'amministrazione Del presidente ucraino Valodomini Zelensky Sta finalizzando La formula di pace In 10 punti Inizialmente menzionata Al vertice Del G20 a Bali E probabilmente La presenterà A fine febbraio Intanto Il presidente russo Vladimir Putin Ha dichiarato Di volere Che la guerra Finisca Al prima possibile Ci stiamo impegnando Per questo E continueremo A farlo Ha detto Ma il conflitto Intanto va avanti Secondo alcune fonti Gli occupanti russi Di Mario Pol Avrebbero demolito Metà del teatro storico Della città Lo stato di New York Assieme a Georgia Kentucky, Missouri Maryland North Carolina E Oklahoma Hanno dichiarato Lo stato d'emergenza In previsione Dell'arrivo Nelle prossime ore Di tempeste invernali Senza precedenti I media americani L'hanno già ribattezzato Snowmageddon Previste temperature Glaciali Ovunque Con punte Di meno 57 gradi In alcune zone Montuose Del Wyoming Oltre 2300 E voli già cancellati Con enormi disagi Per i milioni di americani In partenza Per le feste di Natale Il monitoraggio covid Settimanale Dell'Istituto Superiore Di Sanità Rileva Che l'indice Di trasmissibilità In discesa Con un RT medio Calcolato Sui casi sintomatici A 0,91 Nel periodo 30 novembre 13 dicembre Contro lo 0,98 Della settimana precedente Diminuisce anche L'incidenza Dei casi in Italia Per 100.000 abitanti Calcolata Su una settimana 233 Nel periodo 16 22 dicembre Rispetto a 296 Nel periodo 9 e 15 dicembre La nave CI4 Con a bordo 108 migranti Attaccata al porto Di Livorno Scortata da Motovedette Della Capitaneria Come già stabilito Al termine Degli accertamenti medici 32 migranti Saranno destinati All'Emilia Romagna E 30 a Lazio I restanti 46 Tra cui i minori Rimarranno in Toscana E saranno distribuiti Tra le varie province Il caso Plus Valenze Juventus Torna ad attualità Archiviato il processo Con la soluzione Del club bianconero La procura Della FIGC Dopo aver letto Le carte Di PM di Torino Ha chiesto La revoca Della sentenza Puntando a rimettere In discussione La decisione Della corte d'appello Della stessa FIGC Nei nuovi documenti Evidentemente Sono spuntati Nuovi elementi Abbastanza da riaprire Un caso Ormai chiuso È tutto A più tardi Siamo tornati Che di questo tipo Siamo gli inglesismi Ma che location Ma che location No location No È Giulio Sueri Come si chiama Mi vuoi volta Io l'attacco Siamo a due Fammi una pericena E ci uccidiamo tutti Hai visto il video Amio Facciamo un aperitif Terribile Io non mi sento Già bene Da ieri Io che purtroppo Da pubblicare A comunicatore Proprio il mio lavoro Esiste solo Qualificato in inglese Immaginate Non abbiamo finito Neanche un argomento Allora Bonton Regole da rispettare Nei gruppi Whatsapp Primo Togliere le notifiche Secondo Mai il buongiorno Soprattutto se inoltrate Delle illustrazioni ignobili E inguardabili Idem per Natale Sta per arrivare Ancora peggio Per Natale Mai fare regali Auguri di Natale In serie Fate regali Non fate gli auguri Altra cosa importante Se è possibile Il gruppo lo permette Ma a prescindere Mandate sempre Messaggi effimeri Che dopo 24 ore Se ne vanno Perché non c'è motivo Di lasciare la cosa L'ultima cosa Da ricordare è Svuotate la chat Votate la chat Svuotate la chat Per ritornare Al discorso Del buon ton Su Whatsapp Però questo L'abbiamo detto Esatto L'abbiamo detto prima Quindi lo ridiciamo Allora Un recap Un recap Un reprise Un reminder Un reprise Un reprise Non solo noi Ma anche chi ci segue Ok E io sono Vengo da Milano Siamo in Target Ti ricordi Ti ricordi Quel meme Dice Partito corso Per far passare L'accento milanese Quelli che sono stati Cinque minuti Ciao ragazzi L'ora quotidiana Siete pazzi Dobbiamo leggerli Secondo me ci diversiamo Vai Fabio Vai Fabio che io cerco No vabbè Comunque diamola La notizia di questa chat Da cui è nato tutto Tutto questo Tutto questo È stato portato A A perfezione Dal Mio amico Stefano Brancato Un noto imprenditore Ciao Stefano Lui Lo trovate da Bartes Era stato invitato Insomma fa pacchetti In questo momento No poverazzo Vi rendete conto Cioè questo è un negozio Specializzato Iper specializzato In regali Ricordi Complimenti Arredamento Ha detto Ho provato pure a dire Che fai Ti facciamo la telefonata No Ti prego No Ci vedremo In momenti di calma E lui ha fatto Ha fatto subito Il regolamento Questa è una chat Che si chiama Lifestyle Vivere bene Che è fatta solo Per parlare di Organizzazione Di feste E segnalazioni Di eventi culturali E spettacoli Il gruppo su Facebook Non si usa più No 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 Direttamente Whatsapp Che è anche più diretto Anche perché su questo Whatsapp Devi essere necessariamente invitato Ci sono sei amministratori Io sono uno di questi L'ultimo arrivato E quindi È assolutamente vietato Dare il buongiorno Come già detto Se vuoi partecipare a una festa Lo comunichi Al tuo amministratore Di dire cose E non lo scrivi là Perché Per esempio Avevamo cominciato a scrivere Ah scusa è bellissimo Ma non posso venire Sticato Oddio mi è uscito Sì Quindi dico Oppure No vengo pure io Mi fa molto piacere Ciao Oggi per esempio Una appena entrata Ha fatto Buongiorno al gruppo Ora mi aspetto E arriva Stefano Che appena può All'intervallo del pranzo Ma che hai fatto Hai scritto No vabbè No lui è delicatissimo Ma infatti Mi ha chiesto di Invitarti ufficialmente Nella chat Ci siamo Ci sono No tu Tu no Sì Ci sei Sì Aspetta penso No a me non lo so Io credo Forse io ti ho mandato L'invito E tu non Non hai accettato E questo è buon ton No questo è vietatissimo Allora Vivere la vita lifestyle Eh Here I am Ci sei Perfetto Ok però non avevi letto Quanti messaggi devi recuperare Una bo A proposito Vivere la vita lifestyle Yes Quindi abbiamo fatto una festa Che è andata benissimo È stata fantastica E a gennaio Ne faremo un'altra ancora E poi comunque La cosa bella Che vengono segnalati Delle attività Dei concerti Eccetera Quindi ancora meglio Di un botteghino Tu arrivi là E già sai notizie Infatti c'è chi si è organizzato Per la traviata Chi è andato Al concerti jazz Eccetera Però il grosso Vuole solo ballare E io mangiare E direi E direi E brindare Hai ragione Alla salute Alla salute Allora Fabio È stato un piacere È stato un bel ritorno Alla chiacchiera Perché poi anche se Non abbiamo rimagato il passato Non manca proprio È come se non ci fossimo Lasciati da un minuto Sì ma Poi dico Da questo punto di vista La radio è veramente Come dire Devastante Per la tua comunicazione Io Quei pochi anni Che ho fatto il radio Perché poi subito Mi passarono Alla direzione Del marketing In ben due radio Storiche Ma meno Ma più giovani Di questa Giusto per non fare Novi Dai evitiamo La cosa tremenda È stata che Ho scoperto L'ansia Da vuoto Che si chiama Terror vacui Che è la regola Fondamentale di comunque Ferrari Cioè tu non puoi stare zitto Esatto Impossibile Poi al limite Proprio due secondi Devi avere sempre L'argomento In bozze E ha devastato La mia vita sentimentale Perché praticamente Magari le incontro Ci conosciamo Ma dopo Dopo la prima ora Che non sto zitto Cioè Anche se proprio Me la vanno a gettare Con la fionda Se ne sono scappate E comunque Prima di tutto La radio è compagnia Quindi ci siamo divertite Grazie per essere stato con noi E ora Ti portiamo a pattinare Se resti sintonizzato Ti portiamo a pattinare Però ci teniamo tutti insieme No commenta Perché se no faccio polemica Non è carino Ne confronto il vostro prossimo Vabbè In ospite Sì Palermo A tra poco Pubblicità I consigli di Radio In Ciao gelato La dolcezza a casa tua Tutte le volte Ecampus È l'università online Vicina a te Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea E hai lezioni Tutore ed esami Tutto online Ora Ecampus È ancora più vicina a te Non paghi la quota di iscrizione Ma solo la tassa annuale Ecampus è anche a Palermo Chiamalo 091583046 Se per traslocare Vuoi sicurezza Puntualità e convenienza Scegli Gregorio Loporto Traslochi Leader nel settore Dal 1983 Dal canarino all'elefante Dal comodino All'armadio assaiante Gregorio Loporto Trasporta tutto Anche auto e moto Sia in Italia Che oltralpe Anche con combinazioni settimanali L'azienda A sede a Palermo In via Vittorio Bachelet 66 Per info www.traslochitrasportiloporto.com O chiama il numero 091 66 83 157 Signor Cam Lei è un esperto di comodità Ma si intende anche di regali? Alla Cam Acquista regali belli Importanti e utili Con i regali Cam Farà stare comoda Tutta la famiglia Fino al 2 gennaio Alla Cam Acquisti regali importanti Per le tue persone importanti Materassi Letti Poltrone E tanti articoli Dedicati al comfort Con gli sconti di Natale Fino al 40% Signor Cam Ma lei è un babbo natale Cam è a Palermo In via Cilea 37 Materassi Letti e reti Cam Da 50 anni Il posto migliore Dove dormire Cara Cosa si mangia stasera? Ma veramente Io non saprei Va bene Ho capito Chiamo Bordo Oh che bella idea Possiamo scegliere Tra pizza e hamburger Io direi di ordinare Un pollo Con patatine fritte Che ne pensi? Hanno anche il pollo Sì È la novità di Bordo Perfetto Sono d'accordo Grazie Bordo Anche questa volta Mi hai salvato E vai Bordo Asporto i delivery In tutta Palermo E che dobbiamo fa? Non vogliono più cucinare? Radio In La voce della tua città Facebook con il prossimo ospite Parliamo di Palermo Nice E pensa che io Speravo che venendo qua Il capo di Palermo Nice Ci fosse freschetto No Esatto Ma tu non puoi camminare Con un po' di ghiaccio Presso Allora La prossima canzone Che ascolteremo È Brividi Guglielmo Correnti Guarda Giulia Hai una certa ironia In queste cose Arriva a Palermo Nice E metti Brividi No Sono stata io a dirlo Ma non c'è Brividi Ah ecco Andiamo di canzoni un po' più Sì no Amore mi devi fare svegliare Un po' più su Un po' più su Jason Derulo ok Blowser ok Già Perché ci siamo scaldate Ci siamo rilassate Nella prima parte E adesso dobbiamo scaldarci Nella seconda Che già inizia E intanto mando un bacio Alla mia amica E collega Federica Virga Che anche quest'anno Ciao Fede Ci ha dato questa notizia Notizia del ritorno Anche qua Tocca ripetere In maniera un po' Monotona Però è la nostra ultima vita La vita degli ultimi tempi Dopo la pandemia Dopo la pandemia È tipo un inciso Post pandemia Dopo la pandemia Ritorna Palermo Nice E io la domanda Quella mia Quella glitter Quella impegnata Che si capisce Che ho studiato Dimmi quanto bel freschetto c'è Lei da te Fammi sognare Lei ama il fresco Diciamo che Oltre a far Guglielmo Correnti Sono Guglielmo Correnti Di Palermo Nice Allora Cioè di una cosa Intanto Rispondo alla prima tua domanda Quanto freddo c'è Che bello In realtà dentro ci sono In media Quando fuori all'esterno Ci sono 15 gradi Dentro abbiamo Tra i due E i quattro gradi E Vado a trasferire Ok Quando ci sono invece 27 gradi Abbiamo dentro Il massimo 12 14 gradi Ma il ghiaccio Non si scioglie Cosa succede? Succede che Noi considerate Che stratifichiamo Circa 7 centimetri di ghiaccio Allora In una situazione ottimale Il ghiaccio Tiene Quando fuori c'è troppo caldo Si crea quella Sorta di Acquetta Sopra Perché Diciamo che la pista È pattinabile Ma di fatto Se tu cadi Ti fai la doccia Per bagno Quindi non devi cadere Ma io avrei fatto la domanda Fattini glitter Esistono Sicuro Glitterati Possiamo farli Grazie Tu sai pattinare? Io sì Però preferisco Stare dietro le quinte Organizzare Anche per Sei dall'inizio In questa Iniziativa Che a Palermo Ormai c'è Da Ben 12 anni È visto A me piaccio È da morire Subito Sai su glitter Sul magazine Ho poco tempo Quindi non carico Tutti i pezzi Anche quelli Che mi piacerebbe Pubblicare Ma questo di Palermo Nice L'ho sempre pubblicato Perché mi sa tantissimo Da sempre Di New York Di Serendipity Di quei film Che ti fanno vedere Le persone Che pattinano felici È sempre un momento Di gioia Dove ci sono i liceali Ma anche Tranne Stranger Things Che finisce malissimo Radio Marrakesh 12-14 Siamo con il secondo Ospite di oggi Parliamo di Palermo On Ice Guglielmo Correnti Buongiorno Buongiorno Ti sto per regalare Una mia idea Io sono una produttrice Di idee A volte fruttuose Economicamente Ma sempre brillanti Spero Allora Perché non facciamo Una giornata Da Palermo On Ice Video Nel senso Che proiettiamo Le immagini Più belle Dei film Con le piste Di pattinaggio Mi piace Non è fighissimo Cioè Sara Pensa a tutti i film In cui pattinano È il momento Più bello Della giornata Ecco Il momento In cui le coppie Si innamorano Posso condire Tu sei in un film Americano Di Natale Io direi di Fare una proiezione Dei migliori film Di Natale No E invitiamo tutti A indossare il cappellino Di Babbo Natale Sì ok Però è importante Che diamo Questa sensazione Di momento topico E quando si innamorano E quando Lui la prende Dicevo L'unico Che forse È legato A parte l'hockey Che è veramente Uno sport un pochino Negativamente È una scena Di pattinaggio Nella mia esperienza Cinematografica È Stranger Things Che Dove lei La protagonista 11 11 Viene umiliata Tu l'hai visto Stranger Things Niente Questa serie Che noi giovani Io sono al settimo Ottavo rewatch Di Stranger Things Aveva avuto Un successo mondiale Mondiale E poi da qui Sono partite anche Collaborazioni Con tantissimi brand Anche Ringo Ad esempio Sì Certo E quindi C'è questa scena In cui la protagonista Che è Diciamo Una Emarginata Per ragioni Poi magari Favolose Perché i superpoteri Fossi io Emarginata Per questo Sì i superpoteri Sai quanta gente A posto ci sarebbe Insomma E quindi I compagni di scuola I licei americani Sono sempre fonte Di bullismo Eccetera La fanno cadere La maltrattano in pista Ma in genere La pista di ghiaccio Oltre a essere Un momento Natalizio Per eccellenza E anche Un momento Di innamoramento Di simpatia Di condivisione Abbiamo anche Una mega stella Dove si possono Baciare sotto la nostra stella Quindi al posto del vischio C'è la stella E quindi qual è Il movimento È uno sport Ma c'è anche Intrattenimento Come l'avete impostato È artistico No di fatto So che c'è la musica Sì allora Ok noi Chiaramente abbiamo Ne scongeliamo Ogni anno Michael Bublé Lo ricongeliamo Poi a gennaio Fine gennaio Lo riscongeliamo A novembre Sotto la pista Sì assolutamente Ok Poi sai Col caldo che abbiamo È facilissimo Scongelare No di questo Ne parliamo Sì noi Facciamo Abbiamo una nostra Programmazione musicale Poi ogni tanto Tu senti il ritorno Limpista Tutti i ragazzi Poi dipende Le fasce No Cioè la mattina Abbiamo i ragazzini Poi già nel pomeriggio Ci sono diciamo Dei ragazzini Diciasette Diciotto anni Più che ragazzi E poi la sera invece Il target Considerate che è da diciotto A Facciamo i bravi giornalisti Nel senso che Ha preso il via Prima di Della Madonna Se non sbaglio No in realtà Siamo stati quest'anno Post pandemia Molto sfortunati Perché dovevamo Sì Aprire per la Madonna Poi purtroppo Questo caldo Eccessivo Non riuscivamo A far partire La macchina operativa Come dovevamo E siamo Diciamo riusciti Poi fra Per Santa Lucia Ci ha portato Fortevole Arancine Ecco Abbiamo poi Sì Dato via Sì perché voi siete come le caldaroste Se fuori non c'è freddo Non viene voglia Ma in realtà Paradossalmente Devo dire che quando c'è fuori C'è caldo no? Adesso da noi vengono a prendere il fresco Allora sono tutti come me E' estate no? Eh sì Più di 800 metri quadri Di ghiaccio Assolutamente sì Darci gli operativi Nel senso siete aperti Da quando a qua? Allora Sì Noi adesso siamo aperti Dalle 11 del mattino All'una di notte Orario continuato Quest'anno abbiamo introdotto Una novità Più che altro Per i nostri clienti Cioè vorrei dire Che noi abbiamo Ordinato Diciamo Dei armadietti Tra virgolette Tecnologici Cioè prima noi Facevamo Organizzavamo noi Sia il guardaroba Sia le Tenevamo le scarpe I giubbotti Quest'anno invece no Abbiamo questi armadietti A codice univoco Cioè tu arrivi Metti Tutto ciò nel tuo armadietto Sì Metti un tuo codice univoco E ce l'hai solo tu Quindi quando tu finisci di pattinare Ritorni Ognuno per sé Dio per tutti Esatto E poi un'iniziativa Molto bella All'interno della quale Appunto Palermo Nice Collabora E soprattutto Dona Dei soldi Adesso ne parleremo Abbiamo Michael Bublé Hai visto Tanto per cambiare La nostra Giulia Non perdo un colpo Eccoci su Facebook Sì perché altrimenti L'intervento È diventata troppo lungo Quando tu dici Quando tu dici Tecnologia So che c'è tecnologia Anche nell'essere più ecologici Nel mantenimento del freddo Se vuoi ne parliamo Sì no ne stiamo parlando Perché noi non interrompiamo mai Siamo sempre in diretta Noi siamo stati pionieri Sulla questione Della Dell'isolamento Diciamo inverso Normalmente le piste Di pattinaggio del ghiaccio In tutta Italia Come si fanno Si individua una superficie Diciamo piana A bolla zero Si dice Dopodiché Fatta questa Una volta individuata La location Tu vai a stendere Le serpentine Sulla superficie Che hai Diciamo sulla location Se è cemento Cemento Se è pavimentazione Pavimentazione Da lì poi Si fa stratificazione In ghiaccio Cioè si incomincia A dare acqua A water Sul cile Il processo di refrigerazione E quant'altro Noi in Sicilia Poiché abbiamo Il problema del caldo Quindi il cemento Che è conduttore Non è il basso Oltre a questo Poi c'è una questione Di dispersione termica Cosa abbiamo fatto Siccome vedevamo Che spendevamo Un sacco di soldi In energia elettrica E non riuscivamo A fare ghiaccio Poi adesso proprio Doresti fare pagare Una pattinata 20.000 euro per me Ma infatti Abbiamo dovuto aumentare Seppur di poco Ma abbiamo dovuto aumentare Purtroppo il costo del biglietto Cosa abbiamo fatto Se parli così piano Sei molto sexy Ma a me mi arrivano i rimprovi Ok Ok scusate Abbiamo Sì sì Vicino sempre per gli amici Che ci ascoltano Ok Si può mangiare Dopodiché cosa abbiamo fatto Abbiamo fatto Abbiamo creato Questo strato di isolamento Che nel tempo abbiamo Tra l'altro corretto Attraverso dei calcoli Diciamo Di energetici Siamo riusciti ad abbattere Diciamo i costi D'energia elettrica Dal 40 al 50% Ah ottimo Non solo Ma abbiamo Siamo riusciti anche a Così tra virgolette A contenere Il processo Diciamo di refrigerazione E di mantenere Un ghiaccio performante E questa cosa Giusto per Il nostro fornitore L'ice fantasy di Merano Che è il più grosso Fornitore in Italia Il più grosso costruttore Di piste Di pattinando il ghiaccio Quando ha saputo Di questa cosa C'è chi ha detto Ma com'è che hai fatto E abbiamo spiegato Tutta la cosa Quindi l'hai brevettato? Non ho brevettato Di fatto ho messo Un pochettino Diciamo di sale Che scioglie il ghiaccio Metodi alternativi Ma efficaci Sì Torniamo in radio 20 secondi Una canzone perfetta Per pattinare La magia del Natale Al giardino inglese Con la pista di pattinaggio Sul ghiaccio Palermo On Ice Abbiamo sottolineato Come il pattinaggio Sul ghiaccio È legato a ricordi Però ricordi Di infanzia Di chi non ha Meno di 12 anni Cioè di chi ha più di 12 anni Non ce ne sono Legati al ghiaccio Ma perché? Perché Palermo È una città da sempre calda Non è calda oggi Io non ci credo On the sea Palermo on the beach On the caldo On the caldo Sostanzialmente Io non credo A che catastrofisti Il clima è cambiato Ciclicamente Palermo È sempre stata calda Ci sono periodi più caldi Periodi meno caldi Poi probabilmente Ci saranno anche Problemi di ecosistema Ma è una città Che non è al nord E non siamo a Dubai Dove ci sono grandi imprese Quindi si tentava Ad esistere una pista di ghiaccio Voi siete da 12 anni E non è che c'è un passato Che ricordo io di ghiaccio No però Quello che vuoi dirti Perché ovvio Ce l'hai appena detto tu Che c'è un investimento importante Nel mantenere Una superficie ghiacciata Perché non è un cubetto Una superficie di 800 metri quadri Con 27 gradi fuori Sì Considera anche che Non solo sul mantenimento del ghiaccio Ma su tutta la struttura E comunque ti devo dire Che Palermo si riscopre Una città di pattinatori Cioè Noi abbiamo visto Negli ultimi 12 anni Crescere sempre di più I nostri clienti Cioè Facciamo numeri Molti più bambini Molti ragazzi Guarda Il target si è veramente Allargato Diciamo con 20 Ho una curiosità Che tu sappia Qualcuno che è passato Dalla tua pista L'ha sposato In maniera professionale Nel senso Ci sono atleti Che hai visto Passare da lì? No Però posso dirti Che ci sono stati Bambini O ragazzini Che oggi Fanno degli sport analoghi Tipo Pattinaggio su rotelle Pattinaggio in Che sai I circoli ad esempio Di Palermo Servono per Anche scoprire i talenti Sì In voto Siete una sorta di circolo Del pattinaggio Sì Anche se Noi Da quest'anno Abbiamo iniziato Anche noi A fare i corsi Per i bambini Per appunto Farli avvicinare Al mondo Dello sport Sul ghiaccio Anche se Come ti dicevo Poc'anzi I costi di gestione A vista di patinaggio Sono così elevati Che purtroppo Palermo Non si può permettere Una struttura Un impianto Fisso C'era qualcosa Se non sbaglio Vicino a Lucciardone Poi In realtà Questa vicino a Lucciardone Era il nostro concorrente Ma è venuto dopo di noi Ma è rimasto lì Tipo due anni Sì Adesso c'è Giglio Lai Sì Ha scelto di fare altro E poi L'iniziativa Benefica Aspetta Io però C'ho qualche domanda Anche se tu hai detto Che non Pattini molto Però quali sono I trucchetti Quali sono le regole d'oro Avrei seguito Qualche lezione Allora consigliate una cosa Perché per la prima volta Fai ingresso in pista Allora Premesso che Se non so pattinare Noi abbiamo dei supporti Che vengono chiamati Gergalmente aiuto pattino Il pinguino Sì Di fatto Poi l'evoluzione del pinguino Che facette hanno adesso È una struttura No è una struttura Diciamo in acciaio Cioè tu mi hai tolto Il pinguino Il pinguino Sì perché Lo trovavamo sempre La testa mozzata Siccome i bambini Poi si Spaventavano No secondo me Erono i bambini Che gliela mozzavano Abbiamo deciso Insomma di Toglierli E quindi è una morfa Su struttura Di supporto Qualcuno ci spot E dice Ma cos'è La pista della geriatria Ma tu mi togli la magia Ma metteci un fiorco Ho capito Altra seconda idea Oh due dire gratis Copriamola di Di Glitter Ah ecco Infatti Molta più simpatica Torniamo dopo Con Dopo Jason Derulo Won't you want me E restiamo ancora però Io sono rimasta Con la domanda così Glitter Volevo dirti glitter Comunque di natalizio C'è Sono I slittini Ok Abbiamo qualche foto Mandiamola tesorina Quest'anno abbiamo introdotto I slittini in che senso? È lo slittino da neve Quello in legno Questa è la foto Della carta d'identità Ok Quella è la stella dove baciarsi Una cosa bella è che comunque Passando dal centro Perché ovviamente siamo in centro Non puoi non vederla Anche da fuori Anche se sei nel traffico Almeno ti rilassa questa visione Rispetto a tutto quello che si vede Ovvero macchine e luci La pista di pattinaggio invece C'è sempre al Giardino Inglese Sì è una pista di pattinaggio A rotelle Sì sì Non ricordo da me i tempi d'oro Abbiamo fatto questi nuovi allestimenti Ecco là c'è una moto Una moto slitta No? Lì permettiamo esempio i genitori Quelli che appunto Se i bambini Sono piccolissimi Li facciamo entrare Con le loro scarpe Premesso che Quando il ghiaccio è secco Non si scivola Devi camminare A passo deciso Diamo appunto una corda Tira Questo slittino O la moto E il bambino si diverte Ah ecco E l'ultima cosa Che abbiamo introdotto Quest'anno È la slitta 2 Cioè con due seggiolini Tipo sai quelli Babbo Natale Quelli rossi Belli Sempre per i bambini Sempre per i bambini E nei Certo in 800 metri Ci si può permettere Un po' di più di spazio occupato E a livello di trucchi Per mantenere l'equilibrio Allora mantenere l'equilibrio Che ne so Peso a valle Faccio a monte Mi ricordo le cose Noi abbiamo realizzato Dei video Dei tutorial Di come appunto pattinare E si inizia chiaramente Con una postura Retta Cioè quindi in piedi E diamo appunto Questo aiuto pattino Per incominciare A mantenere l'equilibrio Per prendere confidenza Col ghiaccio E poi Insomma I piedi Alle ore 10 e 10 E incominciare A appunto A spingere lateralmente Per Per iniziare a pattinare Da lì Prendendo confidenza Poi con il ghiaccio Viene tutto molto naturale Sì perché mi immagino La prima caduta In media Le scene Sai idea Oggi sono proprio Dobbiamo fare le gaff Le cadute migliori Ecco sta arrivando qua Le scene sono quelle Mediamente Che si avvinghiano Alla balaustra E incominciano A spattinare Diciamo A gattonare E poi li trovi Insomma Che li vedi uscire Tutti sudati Non ti chiedi Cioè ti chiedi come mai Perché Non sono sudati Sono tutti bagnati Perché sono sudati Perché poi là Fanno una forza Diciamo disumana Nel tenersi Lungo la banconata E fanno tutto il percorso Ma diciamo Tenendosi lungo la banconata E come consigli di vestirsi Io l'ultima volta Sono andata a pattinare Ero gonna Io consiglio sempre comodi O tuta O jeans Ma anche in gonna Se sai pattinare Anche in gonna Il concetto è Ok se non sai pattinare Devi mettere Diciamo Il rischio Che potresti cadere E se cadi A te Diciamo sul ghiaccio Il ghiaccio e acqua Te ne va a casa bagnata E anche con un bel bollone nero Ma ci sta Rientriamo Rientriamo in radio Per due minuti E facciamo uno Unico Un resumo Good vibes Con Jason Derulo Allora subito Dai dai E siamo con Guglielmo Correnti Di Palermo Nice Ci è piaciuto invitarlo Perché contribuisce Alla magia del Natale Un Natale palermitano Un Natale Spesso caldo Ma non è Perché il mondo Sta finendo Io me lo ricordo Quando ho inaugurato la casa Nel 2009 Io ero in magliettina A fumare Ancora fumavo In balcone A Natale Con tutti i parenti dentro E non sarei più orientata Ecco perché parliamo di Palermo Nice Ti piace il ghiaccio? Però Palermo Nice Sicuramente Fa parte della magia Una magia che è anche Decorata In stile natalizio C'è il sottofondo musicale Del nostro Michael Bublé C'è la stella E poi ci sono Prossimamente Tutti i video Delle vostre cadute Best of Chiudiamo salutando il nostro ospite Anche ricordando le belle azioni Anche legate al periodo Benefica Che hanno fatto E quindi parliamo Sia della possibilità Di far partecipare Ad uno sport Ad un divertimento Che non è carissimo Ma non è neanche regalato Perché ci hai spiegato Quanto è importante La spesa da sostenere Per questo capriccio Sul ghiaccio E capriccio Nel senso bello del termine Divertente Non essendo a Dubai Dove si fanno Con 50 gradi fuori Le piste da sci Longhissime E poi Non solo consenti Come voi avete fatto In modo che Altri bambini Con meno possibilità Possano partecipare Ma anche avete donato Un pulmino Avete contribuito Alla costa di un pulmino Sì Allora Per quanti vari bambini Noi lo facciamo Appunto da 10 anni Regaliamo ogni anno Al comune di Palermo Mille biglietti A bambini A casa famiglia Sono nostri ospiti Per quanto riguarda Sì Il contributo al pulmino È successo Che un giorno Insomma Sentendo questa storia Che gli si era fermato Sto pulmino Loro considerate Fanno Questi spostamenti Sia per i ragazzi Per i disabili Ma anche per Scuola lavoro Perché è una Un istituto Diciamo Scolastico Tecnico E ricordo il nome C'è scritto Sì La Scione Esatto Uno scuolabus Per l'ascione Sì Lì un giorno Insomma All'appello Il sindaco Aveva chiamato Un po' di società Noi avevamo sentito Questa storia Abbiamo detto Vabbè Parlando della società Ha detto Che fa Contribuiamo anche per questo Visto che siamo a Natale Lo facciamo per i bambini E le case famiglie Abbiamo deciso Anche di investire Di conseguenza Anche per un'altra parte Della città Perché ci troviamo A Borgo Nuovo Assolutamente Sì Noi Noi Abbiamo a cuore Fin quando si può Pattinare Allora Guarda Abbiamo comunicato Cioè Abbiamo consegnato Alla sovrintendenza La proroga Che speriamo Che ci conceda Che è Fino al 15 di gennaio Quindi Soltanto Sì perché Consigliate una cosa Quel posto Ha chiaramente E ha vocazione Anche per il fatto Di l'angelo a rotelle Ah sì certo E in accordo Con le società sportive Visto che comunque Ogni anno Prima litighiamo Poi facciamo pace Ah certo Ma abbiamo deciso Adesso di fare sempre pace Ci siamo impegnati Anche se Palermo è molto più fredda Nei mesi di gennaio e febbraio Assolutamente sì Però purtroppo Come dicevamo poc'anzi I costi di gestione Sono così elevati Che a gennaio Il nostro fatturato Scende drasticamente E quindi diventa Antieconomico Poiché non abbiamo Contributi pubblici Lo vorrei sottolineare Ma paghiamo la locazione Al comune Non ce lo possiamo permettere Certo Si dovrebbe ideare Una struttura Che magari più Anche se la posizione Lì è favolosa È stupenda Poi il giardino Poi sai La questione Cioè Veramente Entrare in un giardino storico Nell'attesa di fare Il nostro biglietto E vedere tutta questa gente Lì Che si gode il parco Poi il parco Il giardino inglese È veramente Scusate Piazza Antimattarella Il giardino inglese Per i palermitani Come quella Piazza Croce È stupendo È veramente stupendo Anzi abbiamo saputo Da qualche giorno Che ci sarà un grosso investimento Per risistemarlo Quindi noi siamo ancora più felici E speriamo che Nei prossimi anni Possiamo continuare a stare lì Grazie per far parte Della magia Ma voi venite a patinare Ma sai che forse Anche se l'ultima volta Ho rischiato di cadere Io mi piace Mantenere un certo stile Le cadute Quest'anno Mi porto la bimba E pure la cuginetta Ok Presto quindi Sì sì Probabilmente entro Natale È una minaccia È una minaccia Grazie mille Per essere stato con noi Vedi sarà appena tutti a posti Per vedere se cado Con il binocolo Io ti guarderò E ti pubblicherò Io ti stacco Al prossimo pizzicotto Pezzettoni di carne E io di glitter Vabbè Consigli di Radio In Pa come Palermo Pa come panettone Pa come pan cucciato Il panettone artigianale Che nasce da un'idea Dello chef Filippo Lamantia Ottenuto dalla semola Del couscous dolce E con i sapori E gli odori Della Sicilia Contenuto in un'elegante Scatola di latta Una perfetta opera d'arte Lo troverete in edizione limitata Alla pasticceria Don Nino In via Vincenzo Di Marco 26B a Palermo E nel sito Pancucciato.com Pancucciato Da regalarsi o da regalare Per un Natale Ancora più speciale Guarda che meraviglia Senti che spettacolo È arrivata Sky Glass Molto più di una tv Perfetta fino all'ultimo pixel Con un miliardo di colori E immagini cristalline Sky Glass Quarantatré pollici A undici euro e novanta Al mese Anticipo di venticinque euro Anziché di centoventicinque euro Solo con abbonamento Sky Vieni a scoprirla Nel nuovo punto Sky A Palermo In viasciuti sessantotto Domenica aperti Expert Cascino Palermo Il più grande centro expert della città Da expert troverà incredibili offerte Sui migliori prodotti di elettronica E di elettrodomestici E un'ampia selezione di articoli Per la casa Affirmati Casanova Consegni rapidi a domicilio su richiesta Gli esperti ti aspettano in via generale di Maria 83 A due passi dalla stazione Notar Bartolo Con orario continuato da lunedì al sabato E anche la domenica Per maggiori info consulta expertcascino.com Ah dimenticavo Se non vuoi perderti le ultime promozioni Seguici sui social Torna Expo Cook L'evento più cook dell'anno Dal 6 al 9 marzo Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo Se la ristorazione è il tuo mondo A Expo Cook non puoi mancare Info su expocook.org Un luogo senza tempo Un panorama mozzafiato sul mare I colori intensi della caletta di Sant'Elia Preparati alle emozioni Con Escambrè Dove la cucina di mare mediterranea La pizza napoletana E le atmosfere da lounge bar Si incontrano Escambrè Caletta Sant'Elia Via Torre 6 Preparati alle emozioni Per info e prenotazioni Vai su www.escambrè.it O chiama il numero 345 44 63 076 Brava! L'immobiliare che mancava Radio In La voce della tua città Chi c'è qui da queste parti? Hello people! Glitter people L'ultima mezz'ora che volerà Perché sono tra i 12 e i 36 Nonostante Le premesse che erano Pessime Perché ieri abbiamo fatto la cena di Quindi insomma Ce l'avete sentito un po' così C'ho stato da chiudere Lei mi ha fatto in gelosire E quindi ho bevuto Ho bevuto? Si è consolata con l'alcol Perché l'ho lasciata da sola Ero di fronte a lei Si è messa di fronte Ma non mi guardava Parlava con un'altra amica Ma tu guardavi Guardavi altre persone È classico delle donne Queste cose Lei lo fa Perché così Passione Non è vero Non è vero Falza Falza Io per farle capire Che in realtà Mi stavo divertendo Senza di lei Avevo tante relazioni sociali Senza di lei Parlavo più D'altra voce Stamattina una voce Per me Stamattina a zero Anzi adesso stiamo carburando Francesco Meno male che ci sei tu Con la tua simpatia L'ultima volta Quando è venuto Alias Mi senti fa quasi L'unedì era super sveglio E mi ha preso in giro Si è divertito Vai 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 Senza di me ne approfittano Meno male che quando ci sono Io ce lo spallisco Invece La mia amica La mia amica Da quando da me Sono mamma Nonostante io Mi sento un adolescente Si comincia a gustare Tutte queste cose Un po' Natalizie Un po' tenere Un po' cartoon Però si comporta male Perché Perché si comporta male Alla cena Non ti ha calcolato No quello si Ma fa parte del suo fascino E quindi io A me Essendo mamma Ammirando Tutto quello che intrattiene Soprattutto i bambini Che sono un pubblico difficile Mi piace Spesso invitare E quindi con lei Abbiamo parlato di cartoni animati Abbiamo parlato di teatro Per i più piccoli Adesso parliamo anche di musiche Musiche di Natale Che sa un po' di Disney Sa un po' quindi di più piccoli Però piacciono a tutti E quelli sono La musica che è un po' Comuna tutti A 360 gradi Considerate che appunto Parlando appunto Delle musiche di Walt Disney Quest'anno Sarà il centenario Di Walt Disney E dicevo che In questi cento anni Cento anni Ha preso Tantissime Ordini di età Ha preso No? Cioè da Da mio papà A miei nonni Sì Non va mai fuori moda Nel senso Non è che dice Anzi Si è sempre migliorata Adesso è molto più sofisticata Adesso l'offerta Quella per i più piccoli È molto più sofisticata Intanto perché Si dà per scontato Che i piccoli Non vengano soli Quindi tu non puoi fare Una cosa banale A parte che i bambini Sono tremendi Sono bellissimi Sono già grandissimi Critici di tutto il tipo A due anni Con tutta la sedia Ok Sì Ancora Ancora? Sì 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 Bene Va bene? Ah ok Facciamo vedere due foto Non so abbiamo 40 secondi Prima di tornare in radio Eccolo Ok Eccoti Ah ok Lei pesca foto Ha fatto una gazzaladra Di contenuti E questa è la locandina Fantastico Di cui parleremo The Magic of Music Ok E c'è anche Lidia Schillaci Che sarà Tra un pochino Un collegamento telefonico Sì lei Sarà la protagonista Vabbè allora la posso già chiamare Che principale fa? Cenerentola tutte? Fa cenerentola Biancaneve Cuffie radio? Cuffie Allora Devo prendere il silenzioso Loser Cherryfoot Ogni volta 12.40 Siamo con Francesco Nicolosi Ritorno ai nostri microfoni Il nostro violinista E non solo Lui e tante cose No showman Ciao Francesco Buongiorno 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 Grazie per avermi invitato Ecco parliamo di Natale Dico Dopodomani Esattamente Due giorni a Natale E il bello della diretta Stiamo anche chiamando Lidia Schillaci Che abbiamo appena visto Nella locandina Col suo viso Col suoi bei capelli piondi Qui con noi c'è Francesco Lidia Sei a Glitter People Io Milvia Verna E Sara Priolo Ci piace molto l'idea Dicevo prima Ditemi se si sente Lidia Buongiorno Si sente Va bene Giulia Regia Sì Sì Vi sento Perfetto E no Mi sa che il volume È al massimo Ok Ok E parlavamo di quanto Ormai La proposta Per i più piccoli Sia diventata Sofisticata E quanto Il pubblico Dei più giovani Non sia Cioè Sia un pubblico difficile Perché sono Altamente critici Altamente Evoluti Molto più che ai miei tempi Che eravamo babbasoni Più che altro Più preparati Ormai Nascono laureati Sti bambini Sì Sono tremendi Sono tremendi Appunto È vero Sì Prego No è verissima Questa cosa Nel senso che Ormai I giovani Hanno una preparazione Incredibile Però Non per questo Bisogna Appunto Perdere La vicinanza Con quelle Musiche O quelle cose Che ci hanno fatto Sognare da bambini Perché poi alla fine Tutti Anche i giovani E gli adolescenti Diciamo Preparati Per quanto Possono essere Sono stati bambini E sono stati legati A canzoni E a Musiche Che poi Ci hanno Affascinato Tipo quelli della Disney Così Un a caso Ne dico Un a caso No no Noi li vogliamo sapere tutti I tuoi ruoli Li vogliamo sapere tutti Beh allora guarda Più che altro Guarda lo spettacolo Che porteremo Stasera Al Santa Cecilia Sarà uno spettacolo Veramente che Secondo me Prenderà un po' Tutte le fasce D'età Perché È uno spettacolo Che Che porta Sul palco Che porta Sul palco L'emozione Del sogno Dei desideri Che avevamo Da bambini Che secondo me Poi ci portiamo Anche poi Da adulti Quindi Questo è un po' Il concetto Questo è il viaggio Che faremo Questa sera Partiremo stasera Hai presente Quando al concerto Di un grande cantante Aspetti Ti piacciono tutti i brani Ma aspetti Quello che conosci Da sempre Queste Disney E queste dei cartelli Le conosci da sempre Per forza E poi tutti Chiaramente Ci siamo cresciuti Esatto Esatto E qui ci sarà un po' L'imbarazzo anche Della scelta Perché mi sa che Molte Molte canzoni Insomma Verranno cantate Ricordate Anche Liria Esatto A proposito di scelta Quanto è stato Difficile Scegliere Le tracce Allora guarda Devo dire che È stato complicato Perché Io Ho curato Direttamente La scaletta Ed è stato Veramente Complicato Poter dire Oddio Questa qui Non la faccio E l'è Quell'altra E quell'altra Quindi poi Abbiamo dovuto Ovviamente Per ovvi motivi Di tempi Scenici Di spettacolo Cercare di fare Di accontentare Un po' Tutto Quello Che era Anche Il nostro Desiderio Però poi Anche Pensavamo Chiaramente Al desiderio Del pubblico Ma abbiamo trovato Delle belle soluzioni Venite a vederci Perché No io Voglio sapere Allora ti dico Io quando mi sentivo Una grande cantante Quando mi sentivo Ispirata Ero Ariel Quante volte Da sola Da sola Nella mia Io Ursula Quello lo sono Nella vita reale Quando mi sento Romantica Mi sento Ariel E quante volte Da sola Grazie a Dio Avrò cantato Sentendomi Praticamente Una dea Qual è la canzone Che ti dà più soddisfazione ASMR Com'è che si dice Tra voi giovani Qual è quella più ASMR Per te Ma allora Guarda Ma ce ne sono tante Una l'hai appena citata Poi sicuramente Quella di Ariel È troppo figa È bellissima Sì assolutamente Poi Sicuramente Il mio cartone Per eccellenza È stato Il Re Leone Per esempio C'è uno Dei cartoni Che ho amato Di più Che mi ha emozionato Poi vabbè Ci sono tutte Perché in realtà Poi noi donne Siamo più affezionate Alle principesse Della Disney Quindi Ovviamente Tutte quelle storie D'amore Anche nei cartoni animati Sono più sfigati loro Intanto sono più brutti Ma Non esageriamo Sempre Abbiamo voluto la parità Ve la state prendendo Ma mi sembra Se volete Qualcosa in più Della parità Adesso Noi siamo Colonizzatori Lidia Parliamo delle Avete ragione ragazze Guarda Io sono d'accordo Con voi Parliamo Delle orchestrazioni Anche È bellissime Francesco Qui con noi La chiesta Di questo Dove tu sei Ovviamente il volto Il tocco Sono il principe Azzurro Del concerto Guardalo Ha pure gli occhi Azzurri Ha il capello Pure molto Alla principe Azzurra Ti manca il cavallo È fuori Francesco E quindi ci sta Pennello E poi con il violino E soprattutto Ci saranno delle cose Molte Poi devo dire Che Allora La Disney Ha collezionato Musiche Di artisti Veramente Artisti internazionali Senz'altro Altissima levatura Artistica Da Insomma Elton John Insomma La natura artistica Della musica Che è stata fatta Proprio Per la Disney È Per non parlare Della qualità stessa Dei pezzi Io penso a Fantasia Che Non ha niente Da invidiare Che ne so Ha un vivace Cioè Sono proprio pezzi Ma la bella è la bestia Che poi Gino Paoli Anche vabbè Tantissimi esempi Abbiamo Resta con noi Non scappare Non è una colonna Sonora Disney Però ci sentiamo tutti Un po' a bambini E quindi Che cosa significa Ah bambino nel tempo Erso Ramazzotti Facebook Vabbè Allora Andiamo per ordine Tipo io stasera Perché stasera No Alle 21 e 30 Stasera è giorno 7 Da stasera A giorno 7 No Stasera 23 E inizio Il 28 Pre Natale E giorno 7 Di nuovo a Santa Cecilia Quindi Lidia dicevo Prima del Natale E poi prima di tornare a scuola Per i bambini Ah sì sì 7 e 8 Santa Cecilia 7 e 8 Santa Cecilia 23 Santa Cecilia E il 28 Saremo a Messina Al Palacultura Ricorda altro che non abbiamo fatto Aspetta 21 e 30 Arrai al Teatro Santa Cecilia Intanto dico Siamo quasi arrivati come Tempi Ma è ancora possibile Ma stasera è sold out Lo spettacolo Ma noi lo sapevamo E ce l'auguravamo Ma lo stesso Vi volevamo avere qui Perché a me ormai Fanno impazzire queste cose Sarà che mi sento sempre Una madre non all'altezza E le vorrei far fare più cose Ma guarda Giorno 8 Abbiamo aperto un'altra data Ulteriore Perché il 7 È quasi sold out L'8 Ci sarà una data nuova Dove ci sarà la possibilità Di avervi Ed è sempre di sera O pomeridiana 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 Brava Perché io vado a letto presto Sì sì Alle 19 e 30 Già dorme a quanto pare E l'orario adatto Per insomma Cercare Vedersi il concerto Puoi andare a cena E poi andare a nanna A nanna Ok Allora I brani Qualche cosa Facci un po' Dacci una scalettina Un assaggio Volete delle anticipazioni Sì Darvele Io non posso darvele Vi posso dire semplicemente Che insomma Già le cose Che ci siamo detti Sono Sono sicuramente Saranno sicuramente Nel concerto Ci saranno dei cartoni Anche più Più nuovi Ecco Quindi Più recenti Sì sì C'è appunto Un escursus Tra quello che è stato E quello che Secondo te Tra i cartoni più recenti Qual è quello Che ha subito Assurdo dignità Di pezzo Della vita Pezzo per sempre È tutto personale Secondo me Allora guarda Infatti Potrebbe essere personale Però Recenti Diciamo Quello che ha fatto Più successo Sicuramente Tra i bambini Tra le bambine Frozen Frozen Indubbiamente Indubbiamente Ad oggi è proprio Nella lista Di film di Natale Da vedere Ma per tutti Non soltanto Per i bambini Ma tu sai Che mia figlia Frozen Quella che amo In particolare Sì Il tuo preferito Il Re Leone Il Re Leone Anche io C'è t'artisti dentro Con il tuo violino Accompagni tutte le Non tutte Ho alcuni brani Perché tutta la scaletta È veramente Abbastanza lunga Chi siete Chi siete Diamo anche luce A chi è con voi Ci sarà anche L'orchestra Jazz Formata questa volta Da una rosa Di ragazzi Giovanissimi Che hanno vinto Una borsa di studio E parteciperanno A questo progetto E sono ragazzi Che vengono Da tutte e nove Provincie siciliane Ma sono Credetemi Bravissimi Io sono rimasto Meravigliato Nell'ascoltarlo Io ascolto Molti musicisti Collaboro Con tanti musicisti Ma loro sono La cosa La cosa bella È che sono tutti Giovani E che hanno Un sacco di voglia Di stare sul palco Di imparare Questo è meraviglioso Unire queste cose Guarda Francesco Io ti dico Ieri Abbiamo fatto Insomma Una bellissima Prova generale Ma unire Questa 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 cosa Dei giovani Ti fa Ti mette Un'energia incredibile E poi con questo Progetto Non specifico Poi devo dire Un'altra cosa Che è giusto Assolutamente dire Insomma L'ideazione È assolutamente Originale Dello spettacolo Nel senso che È uno spettacolo Ideato Da Luca Luzzo Infatti te lo stavo Dicendo Salutiamo L'amico Luca Luzzo Ciao Luca Iper talentuoso E spesso Cossica Glitter E non Sassino Ce lo mette sempre È certo È un grande Direttore artistico E il Brass Group Tu fai parte Ovviamente Gli arrangiamenti Che sono importantissimi Sono tutti curati Da Domenico Rina Che ovviamente Ha dato quel tocco Anche un po' jazz Perché insomma È la young orchestra Del Brass Group Di Palermo Questa Quindi bisogna Insomma C'è un'identità Precisa Nel tuo passato C'è pure il Brass Group Giusto Beh io ho studiato Io sono stata una studente Come quei ragazzi Che saranno sul palco lì Con me questa sera Come loro Perché ho studiato Al Brass Group Per tantissimi anni E ho fatto tutta La mia formazione Iniziale Ed eccoci tornati In collegamento telefonico Con noi Lidia Lidia Schillaci E qui in studio Francesco Nicolosi Allora parliamo di magia Parliamo ancora di magia del Natale Magia del Natale Te la faccio apposta È un po' Diciamo Il motivo di fondo Di questa nostra puntata Natale, Disney Magia, arte Musica Prima il ghiaccio Sempre bambini però Giovani Ma ormai Quando tu hai figli Lo vedrai Non conti più Niente Cioè no tu Non perché sei tu Non perché sei tu E io ce l'ho sempre con te Lì ti chiamo sempre Proprio l'essere umano Quando si riproduce Diventa Di lato Duplice No di lato No duplice Diventa schiavo dai figli In pratica Francesco Tu fai di tutto Per farli sorridere Sì Anche che si gli scappa Un sorriso Se i secondi dopo Sarà pieno per qualcos'altro Quindi è un investimento Sbagliato Che tu continui a fare Quotidianamente Sì è un po' Il cane che si muro Della cosa Sì sì E tutti ci saranno A guardarmi La piccolina Perché i grandi Ormai uno a 25 anni Per ora esce Periodo Tu Lidia Come ti senti Più dalla parte Dei bimbi O dalla parte Dei grandi adesso Ma guarda Io mi sento sempre Una bimba Il fatto è questo È un problema Ti lo dici Guarda Io sono Da entrambe le parti Assolutamente Devo dire che però Ho un attaccamento Fortissimo Con molti 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 bambini Che poi anche Mi seguono Per via anche Delle cose che Evidentemente Averò fatto anche Insomma Precedentemente Nella mia carriera Quindi È una cosa È un connubio Secondo me Perfetto Insomma Io poi Sono stata Più volte Anche testimonia Testimonia Al Disney Proprio Quindi Insomma È una cosa Nuova È tutto collegato Una bellissima carriera Io l'ho letta Nel Ti ho studiato Un po' Prima di averti Qui ospite Ma quando vuoi Torni in presenza E chiacchieriamo Volentieri Magari io ti rubo Qualche foto Qualche video Guarda Sarà la mia promessa Visto che oggi Abbiamo dovuto Per ovvi motivi Fare una telefonica Ma guarda E noi ti lasciamo Alla tua beauty routine Perché io l'ho detto Che tu Hai fatto bene Bisogna prepararti E Lidia Sempre complimenti E grazie per essere stata con noi Ci coccoliamo un po' Francesco Grazie Noi vi facciamo tutti No come si dice Ciao Francesco Ci vediamo stasera In bocca al lupo In bocca al lupo Grazie Ciao Vive il lupo A tra poco I consigli di Radio In Donnino Non è un semplice Bar-ristorante Ma un'esperienza Da vivere Con tutti e cinque i sensi Che ti fanno scoprire Come si può mangiare bene E sano Senza rinunciare mai al gusto Donnino è pronto Per stupirvi Dalla colazione la mattina Alla formula buffet Del pranzo O con un gelato A tutte le ore Donnino Total Food Vi aspetta a Palermo In via Vincenzo Di Marco 26 B I tempi sono quelli che sono Mi sa che dovrò rivolgermi Ad affari in oro Suggerirò l'idea anche a quella Befana dell'amica mia Affari in oro Compra preziosi in oro e argento In contante all'istante Affari in oro E a Palermo con otto negozi Numero verde 800 913 333 Bambini Arrivo Ho 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 Per chi ancora non lo sa La dodicesima nota È una splendida terrazza Della storia Palace Hotel Dove poter godere Dall'alto Di una vista Mozzafiato Sulla città Ideale per un coffee break Una colazione d'affari Un cocktail Una cena O un banchetto Scoprirete una cucina D'eccellenza Avvolti da un piacevole Sottofondo musicale La dodicesima nota Per noi di Radio In Sarà un punto di riferimento Venite a scoprirla anche voi Alla storia Palace Hotel In via Monte Pellegrino 62 A Palermo Radio In La voce della tua città Facebook Ma come la da Noi dovevamo dire queste cose fuori onda Invece siamo già in onda E vabbè ma se Giulia fa gli agguati Esatto Cavalchiamo l'onda Lei è lo squalo Vedi l'altro personaggio cattivo Sì 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 Anche lei Ma è assomigliata un pochino A sua volta alla biancaneve A te pure ti manca Anche Ryuki dice questo A te ti mancano i sette nani attorno Per sembrare Allora di Il colletto alzato Però mi sembra che ha occhi più buoni lei Non so perché Di Sara Stai cremendo Tu sei un principe marcio Non è vero Veramente Sei marcio Principe Guarda che quando invitiamo gli ospiti Dobbiamo trattare bene Che poi già abbiamo un brutto carattere È vero È vero Dicolo che è tua No amore Non è vero Non è vero Per chi ti conosce bene come me Che ormai io ti capisco al polo Tu sei bello Sparirò dalle scene Poi tra l'altro mi ha mandato una tua biografia Mi ha mandato una tua biografia con me Senti questa non l'abbiamo appattata Lei a te Sì 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 Su di te è vero Ha scritto da me Sì 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 Terribile Occhio quando sei in radio con noi Nel curriculum c'era scritto che Francesca in realtà suona il violino con una corda in meno Perché non è Non riesce a suonare con quattro corde Ma questa è una cosa buona per un violinista Vi conoscete prima di È venuto in studio un lunedì Sì Quindi un mese fa Sì Perché si è fatto la foto con me e l'ha messo sul comodino Così ogni giorno Quando mi sveglio Un bacio a Rosanna Quando viene a Fola Ha detto stampa bravissima del brazzo E quando dice ti mando un violinista Ma lo penso un quadro antico Invece è vero Che è favoloso Ma che ha detto? Ma che ha detto? La verità Però senza peli sulle Non c'è neanche un pelucchio sulla lingua Non me l'ha installato Cioè neanche quella della pelliccia sintetica Che è rimasta attaccata Invece sì Se le labbra Lei no mai C'ho la pelliccia che me la sono rimessa anche ai piedi del letto E stamattina non c'era tempo Per socializzare con gli altri Gli altri copri Non ce la posso fare Ce l'ho negli occhi In vespa facevo Adesso cado Mai sulla lingua però Comunque si chiama Francesco Favolosi Perché Questa guarda Diciamo non sei un quadro antico Questa è suonata 100 punti Grazie Senti prima di chiuderci Facciamocelo un pochino Tu come hai iniziato? A suonare il violino? Per te? Allora è stato un grandissimo caso il mio Volevi atteggiarti a età? No sei anni Ah ok Velocissimamente Il violino L'ha comprato mia nonna Non per me Per un fratello mio più grande Che è nato con una malformazione congelita Alle gambe Cioè mia nonna Era molto materna Sì ci facciamo questa cosa Bella questa Vedi che becco sempre Qualche cosa di Stare Night Sigala 12 e 57 Francesco Dopo il nostro ospite Che è un violinista Si è beccato un Pensavo che arrivasse un quadro antico Invece È venuta una bellissima persona Siamo andati a un poco Visto che abbiamo già parlato Dello spettacolo di stasera Abbiamo avuto una bella chiacchierata Anche con Lidia Il volto è la voce Di questo spettacolo bellissimo Del brass Dedicato alle canzonità Ora cuociamo l'ulto Perché abbiamo ancora tre minuti E che per te saranno un'ora Le patatine fritte in tre minuti Solitamente sono pronte Certo Vero è No Allora ci sono una vita Quelle di oggi Quelle di oggi sì Perché Francesco è la nostra patatina Nel darti pastiglio subito Ho detto tu come hai iniziato E ci hai cominciato a raccontare Una bella storia Eh sì Perché appunto il violino Non è stato comprato per me Io avevo sei anni A sei anni Sì sì Sei anni Era per mio fratello Che ha avuto una malformazione congenita Ai piedini Mio nonna compro questo violino per lui Soltanto che alla prima lezione Mio fratello che era molto tosto Ed è sempre molto tosto È scappato Io sono rimasto incantato Davanti a questo violino Suonato dal mio maestro Che a me purtroppo non c'è più Ma Anche io ho un cuore Sara Ma cos'è il Natale? È il Natale E può essere Ma mi ha trasmesso Quest'emozione Non ha portato il violino? Lo so Neanche l'altra volta Vi prometto Questi artisti che invitiamo Sono tutti tirati Tutti che se la tirano Se la tirano sì Tirati in che senso? No io l'ho purtroppo Non parliamo di chirurgia Che la giornata oggi È stata abbastanza movimentata Chirurgia chi? Vabbè Francesco No il violino è uno stile di vita Uno stile di vita Perché devi continuamente studiare Cioè non è che ti diplomi E poi per il corso di laurea È finita Non è la bicicletta in sostanza No 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 Come Siamo sempre paragonabili Gli atleti no? Devi mantenerti sempre in allenamento Per poi arrivare a fare E dove hai studiato? Qui col tuo maestro? Sì 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 Ora io vivo a Caltanissetta Perché insegno Violino ai bambini La scuola media A Caltanissetta E secondo te Parliamo di cose sempre moderne Mercoledì Che è l'ultima serie di Netflix Quella che Niente Te la ritrovi pure in bagno La mattina Ha portato un po' alla luce Il violoncello Meraviglioso Che loro chiamano Trello Il cello Sì sì L'inglese E questo violoncello È utilizzato anche per suonare Non mi ricordo Un brano rock Se non sbaglio Sì sì certo Ci sono novità Sul violino Ci sono modernità Ma diciamo che È cambiata un po' La tendenza Sì perché Il violoncello Il violino Sono strumenti classici Ma hanno subito Questa trasformazione Strumenti che ormai Possono fare Qualsiasi Qualsiasi stile musicale Un pizzicato Un saltellato Sì sì anche Poi tra l'altro Addirittura Mettono adesso Anche i distorsori Cercano di Alterare il suono Noi abbiamo un caro amico Di Radio In Che cammina pure Con le luci led Sul violino È diventato L'anima Delle feste Nel senso che Sì sì è una cosa Molto bella Io non l'amo molto Diciamo Non è necessariamente Qualche cosa Legata al Classico Cos'hai tu di classico E cos'hai di moderno Entrambe le cose Cioè nel senso che Io faccio molto moderno Con lo strumento classico Perché per me L'eleganza del violino Quindi la tecnica La usi classica Però con brani Per esempio Sì 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 Ti aiuta tantissimo Chi viene dal classico Fare un brano moderno È come passeggiare Certo Penso più facile Sì 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 E la metti il cuore Metti il cuore in tutto quello che fai Abbiamo niente Abbiamo già finito Però io questa ormai la voglio fare L'ultima Vi attaccate Sia tu che Gia La sai l'ultima La sai l'ultima Torno la racconto No il brano che ti ha messo più alla prova Che so io sono una bacchettona Per lo spettacolo di stasera Ma tanti in filosofia No 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 In generale Sempre mi mettono alla prova No quello che proprio hai detto È una sfida È i capricci di Paganini Hai visto che c'è sempre La bestiera nera di Nerissima Quanti giorni Mesi a provare Tanti tanti Considerate che affrontare Un capricci di Paganini Ci vuole un'ora e un'ora di studio Mi piace Nel diploma Parliamo di 18 ore al giorno Per arrivare a un livello Che è buono Perché è ottimale Secondo me la perfezione Non si ha mai Con questo strumento E quello che invece È il tuo Che arrivi Fai questo E tipo ti cado nei piedi Come le Ma diciamo che il violino È uno strumento ruffiano Le foglie in autunno Eh eh Quello è quello che arrivi L'avemaria No Uno moderno No quello che Uno moderno Sciallo può essere Che quando fai sciallo Guarda Vedi gaga vabbè E' eccelma Ah che figa Sì sì Allora stasera 21 e 30 Non ero in gran forma Mi compiace Brass group Teatro Santa Cecilia Eh però ricordate Che replica il 7 E replica anche l'8 Di pomeriggio Così anche quelle come me Per queste date Forse è possibile venire Per stasera Stasera no Giorno 7 pochissimi posti Giorno 8 Ancora abbiamo una grande Disponibilità Ci vediamo l'8 Ok vi aspetto allora Ciao Francesco Buon Natale Grazie Ciao Buon Natale Da Glitter People Da Hello People Fai a vedere le palline Sara Tim 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 Auguri Ciao 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 Grazie.